Il cane deve mordere Probabilmente durante la propria vita tutti hanno avuto l'esperienza con qualche bullo o un'esperienza in diretta vedendoli agire su qualcun altro o esperienza diretta, cioè vedendoli agire su se stessi Anch'io ho avuto esperienze di questo tipo in passato ho avuto a che fare con dei bulli che possono arrivare a renderti la vita anche molto molto difficile soprattutto quando sei un ragazzino, sei molto giovane ma mai, mai mi sono piegato alle loro cazzate E capita spesso di averci a che fare soprattutto durante il periodo delle scuole durante le scuole medie, durante anche magari il liceo e in quel periodo è frequente vedere situazioni di questo genere perché si è in una fascia d'età in cui i ragazzi ancora non hanno ben chiaro di qual è il loro ruolo all'interno del contesto sociale in cui si trovano e in questo periodo si cerca proprio di capire quale sia questo contesto e in molti casi, a seconda delle persone, questo può portare al bullismo ma perché succede? Prima di tutto bisogna capire una cosa i bulli sono insicuri sono fondamentalmente insicuri e hanno bisogno di trovare qualcosa che dimostri a se stessi che quell'insicurezza non sia vera e per questo scaricano le loro paure nel cercare la dominanza su qualcun altro perché in un certo senso esercitare una dominanza su qualcun altro gli fa esercitare una sorta di controllo e avere la sensazione di poter controllare un'altra persona ci fa sentire migliori di quell'altra persona e allo stesso tempo si autoconvincono di essere migliori hanno bisogno di fare questo perché sono insicuri perché hanno un ego molto molto piccolo ricordate che questi bastardi si alimentano della paura hanno bisogno di vedere che suscitano una paura nell'altra persona e spesso nei contesti sociali delle scuole vanno a puntare la persona più isolata la persona più debole magari il nuovo arrivato in una classe o magari la persona più timida perché sono le prede facili e paradossalmente quello che spinge le vittime del bullismo a non reagire è proprio la paura di essere isolati perché solitamente chi ha un atteggiamento da bullo tende comunque ad avere una maggiore coesione sociale all'interno del contesto in cui si trova perché la gente ha paura comunque di quella persona difficilmente un bullo è una persona che apparentemente è isolata quindi andare contro un bullo opporsi significa probabilmente andare anche contro quella cerchia sociale e a livello appunto inconscio significa andare incontro al rischio di essere isolati e a quell'età quando si è un bambino comunque un ragazzo molto molto giovane la reputazione sociale è importante perché ancora non si è sviluppata una personalità tale da dire me ne frego di quello che pensano gli altri di me me ne frego del giudizio degli altri a quell'età è ancora molto importante quindi la paura di finire isolati la paura di essere messi da parte è una paura forte è una paura molto sentita però ricordatevi una cosa il contesto sociale dei bulli ciò che tiene insieme il gruppo di persone che circonda i bulli o il gruppo di amici è una coesione che è mossa da motivi debolissimi questa gente non ha amici che stanno con loro nella loro cricca perché li rispettano questa gente si alimenta di paura e sa diffondere solo paura nel momento in cui tutto ciò che mantiene questo tipo di coesione crolla nel momento in cui perdono la loro forza perdono tutti quelli che hanno attorno perché nessuno era legato a loro per motivi nobili, validi ammirazione, rispetto no, solo paura e molti di loro lo sanno sono sicuro che molti di loro dentro di sé lo percepiscono percepiscono che è così ne sono più che certo quindi come si affrontano i bulli? allora la prima cosa se fanno una violenza verbale cioè se semplicemente si imitano a insulti a fare frecciatine la cosa migliore da fare è ignorarli o ignorarli o al massimo esagerare e amplificare quello che viene detto in entrambi i casi significa che ciò che loro provano a fare cioè quel controllo, quella dominanza che cercano di avere non ha effetto con quei mezzi che usano e questa cosa loro se ne accorgono e gli manda in pappa il cervello ve lo posso garantire questa è la prima cosa ora generalmente a seconda del tipo del bullo la situazione può fermarsi lì oppure ci può essere un'escalation non funziona il primo tentativo di degradarvi, di attaccarvi di esercitare dominanza e controllo allora che cosa fanno? passano alla violenza alla violenza fisica ovviamente quindi si passa dalla violenza verbale alla violenza fisica e in quel caso che si fa? dovete mordere non ci sono alternative il cane deve mordere a costo di perdere la lotta a costo di prenderle a costo di rimanere feriti rimanere a terra nel vostro sangue dovete reagire e dovete farli male non necessariamente vuol dire che dovete batterli dovete mandare un messaggio e il messaggio è se tu provi a fare questo con me rischi di farti male ogni volta magari vinci tu ma ogni volta rischi di farti male se sono violenti se cercano di sovrastarvi con la violenza fisica dovete rendergli la vita difficile dovete fargli male ragazzi cioè non ci sono alternative dovete fargli male pugni, schiaffi, graffi tirate cose addosso qualunque cosa va bene qualunque trovata che vi possa venire in mente per farli male dovete farli male chiaramente se iniziano loro non è che prendete e iniziate a picchiare gente a caso se usano la violenza fisica su di voi dovete rispondere allo stesso modo anche peggio il cane deve mordere ricordatevi che i bulli sono insicuri i bulli vogliono avere il controllo facile su un'altra persona per poter mettere a tacere quella vocina che hanno in testa che dice che non sono abbastanza per essere accettati dal gruppo sociale in cui stanno hanno bisogno di trovare un modo per esercitare la dominanza su qualcun altro e hanno bisogno di farlo in modo semplice non deve essere faticoso se ogni volta provare a stuzzicare qualcuno provare a esercitare violenza su qualcuno significa anche prenderle magari vincere lo scontro ma prenderle tornare a casa con i dolori a lungo andare al bullo questa cosa non conviene ed è quello che succede ve lo posso garantire quello che succede quello che è più frequente è che poi vadano a puntare qualcun altro a puntare una preda più facile perché non ne vale la pena ok? e lo dico per esperienza perché quando ero più piccolo ho avuto a che fare con situazioni di questo tipo e ricordo forse la scuola e c'era una persona che mi stava provocando e lì addirittura non ho fatto quello che vi sto dicendo adesso nel senso che non era partita con la violenza però ero talmente arrabbiato che all'ennesima provocazione ricordo che presi qualcosa che era sul tavolo e glielo tirai in faccia e ricordo benissimo la faccia che fece quella persona perché fu una faccia di stupore fu una faccia come se volesse dire il cane morde ed effettivamente poi da lì non ho mai avuto nessun tipo di problema poi col tempo io magari ho anche un carattere in cui tendo a rispondere a certe cose non esiste che mi faccia mettere i piedi in testa anche se appunto posso rischiare qualcosa e questo magari mi ha aiutato però anche per chi non ce l'ha questa attitudine è l'unica soluzione che funziona il peggio che potete fare e non reagire se subite una violenza da parte di questo tipo di persone dovete reagire allo stesso modo ripeto non necessariamente dovete vincere lo scontro dovete fargli male devono capire che se vi stuzzicano c'è un prezzo da pagare ragazzi io sono prevalentemente nella maggior parte dei casi contro la violenza cioè su questo sono abbastanza contrario alle forme di violenza ma non vi verrò mai a dire che la violenza non risolve i problemi perché non è così e farò un video anche su questo argomento perché è un argomento abbastanza complicato va sviscerato per bene però in certi casi in casi come questi è l'unica soluzione può anche capitare che se la violenza verbale e quella fisica non funzionano si arrivi a metodi diciamo più subdoli tipo parlare alle spalle diffondere false dicerie allora in quel caso il mio consiglio è potete stare tranquilli e ignorare bellamente queste persone perché sono semplicemente dei vigliacchi al mondo non servono i vigliacchi non servivano prima non servono soprattutto nella società di oggi sono dei vigliacchi ignorateli continuate sulla vostra strada tanto non faranno nulla di buono alla società e un'altra cosa che ho imparato è che spesso soprattutto in quegli anni contrastare un bullo può portare all'isolamento perché come vi ho detto può portare a doversi scontrare con tutta quella che è la cerchia che gli sta dietro e la paura dell'isolamento è giustificata ma è un prezzo che dovete pagare perché è meglio rischiare di essere isolati ma aver reagito di fronte a certi soprusi di fronte a certe violenze piuttosto che sottomettervi e ogni giorno guardarvi allo specchio e odiare la persona che vedete perché così vi vergognerete ogni giorno di voi stessi e siccome questa gente trascina con sé e trasmette solo rabbia e odio finirete per crescere portandovi dietro questa rabbia quest'odio questo risentimento in tutti gli altri ambiti della vostra vita e non ve lo potete permettere quindi fate del bene a voi stessi e piuttosto che sottomettervi prendetele ma rispondete se il prezzo da pagare è l'isolamento pagatelo ne guadagnerete molto di più negli anni a venire sapendo di aver agito preservando la vostra dignità perché alla fine di questo si tratta avete mantenuto la vostra dignità siete stati leali a voi stessi avrete molto più rispetto per voi stessi e più inizierete ad apprezzare e rispettare voi stessi per queste scelte più la vostra vita sarà più facile andando avanti e io poi non ho avuto mai più problemi con i bulli né c'è mai stata una situazione che si è avvicinata a qualcosa del genere però mi rendo conto di come lasciano dietro di sé solo odio e solo rabbia perché nonostante io adesso sia una persona relativamente tranquilla gli è difficile che perda la calma però se vedo questi atteggiamenti vedo per la strada anche dei ragazzini che hanno questo atteggiamento con qualcun altro mi scatta qualcosa qualcosa di quelle esperienze mi è ancora rimasto e mi scatta qualcosa parto con un interruttore e vorrei veramente a chi si comporta così fracassargli la testa contro un muro senza rimorso senza assoluto ripensamento è qualcosa che proprio mi tocca dall'interno per farvi capire quanto situazioni del genere possono andare a influenzare le persone e soprattutto quando sono giovani l'impatto che possono avere sulla psiche di una persona sull'emotività sui suoi comportamenti futuri soprattutto futuri sono estremamente rilevanti e dal mio punto di vista oggi non si insegna assolutamente bene come va gestito il bullismo si cerca sempre di agire sulla comprensione sono i genitori che devono lavorare su questi ragazzi perché magari hanno problemi a casa che poi è vero solitamente la maggior parte dei bulli ha situazioni familiari disastrose ma in ogni caso il problema non cambia nel frattempo che si prova a risolvere una situazione familiare disastrosa quelle persone fanno dei danni ad altre persone quindi l'unico modo per rispondere ai bulli è questo violenza verbale ignorare amplificare fregarsene violenza fisica rispondere a tono farli male e vi diranno no la violenza non serve non bisogna arrivare alla violenza no no con queste persone bisogna arrivare alla violenza devono capire che quel tipo di comportamento ha un prezzo perché sono atteggiamenti sono dei meccanismi che prenderanno e applicheranno in altri ambiti della loro vita anche quando saranno più grandi perché se non sono stati contrastati sanno che è un tipo di approccio che funziona un tipo di approccio che risolve le loro insicurezze li fa sentire migliori li fa sentire tranquilli li fa dormire alla notte no invece non devono dormire alla notte no devono capire che il cane può mordere e il cane deve mordere l'opinione generale quando si fa la lotta al bullismo è che l'obiettivo è risolvere il bullismo cioè risolvere l'azione del bullo che esercita un certo tipo di comportamento su una vittima ma a me non interessa questo a me non interessa cambiare questa situazione che c'è sempre stata negli anni e purtroppo credo ci sarà sempre a me interessa risolvere il problema di chi subisce i comportamenti del bullo perché non si insegna alla fine a chiunque ai bambini ai ragazzini come reagire nel caso dovessero trovarsi di fronte a situazioni di questo genere perché alcuni per attitudine possono essere portati a rispondere ma altri magari non sono così e sono quelle persone che devono capire che devono farlo anche se non è nella loro indole ma è fondamentale altrimenti non usciranno mai dal loop ragazzi noi ridiamo e scherziamo ma c'è gente che a causa del bullismo ha perso la vita ci sono ragazzini che si sono suicidati e superficialmente si potrebbe dire eh ma per due insulti ti butti dalla finestra della scuola per noi sono due insulti perché siamo adulti e ci rendiamo conto che sono ragazzini e alla fine non ce ne frega un cazzo in realtà di quello che ci dicono perché sono ragazzini ma entrando nell'ottica di un ragazzino in cui il suo mondo è quel contesto sociale è la scuola in cui non sai bene chi sei non è una personalità formata in cui la paura della solitudine è una paura vera la paura di essere isolato è qualcosa che veramente ti fa star male è diverso per cui no non è qualcosa che sottovaluto però per me l'approccio al problema del bullismo non è parlarne in maniera sai ci raduniamo a un tavolo tutti i psicologi gli esperti di questo e di quest'altro cerchiamo di far capire al ragazzo come si deve comportare come deve rispettare l'altro no no per me la soluzione al problema è insegnare alla gente come reagire ai bulli punto perché ho visto anche per esperienza e per esperienza anche di altre persone con cui ho parlato che hanno subito cose di questo tipo anche peggiori molto peggiori è il metodo più efficace è quello che poi realmente funziona il cane deve mordere è il metodo più è il metodo più Grazie a tutti.